benvenuti su deal flower oggi ospitiamo giulio cocci amministratore delegato di elica che è una realtà da fabriano quindi marchigiana poi magari ci spiegherà bene di cosa vi occupate è interessante capire un po il vostro punto di vista d'azienda insomma industriale come vivete la situazione attuale considerando il problema caro energia in primis ma anche inflazione tensioni crisi dei consumi in generale e poi in particolare il segmento food che un po il vostro segmento di riferimento come vedete un po il mercato in questo momento si buongiorno allora elica elica cos'è elica è un'azienda marchigiana quotata in borsa lo scorso anno ha fatto circa 540 milioni di ricavi e si compone di due business unit una è quella che del nome all'azienda che si appunto di cottura cappe piani aspiranti dove è leader mondiale europeo per quanto riguarda la parte di piani aspiranti con volume in crescita è un business sempre più solito e una divisione motori che vale circa il 20 per cento del fatturato dove siamo leader europei per tutta quella parte di motori ventilation per l'elettrodomestico ma anche heating per il riscaldamento l'ha detto lei è un momento molto complicato è un momento molto complicato che va avanti da da molto tempo per tutto lo scorso anno le tensioni inflazionistiche sono state supportate da una domanda crescente nel settore della casa in generale quindi elettrodomestici ma anche altro in questo momento sicuramente le cose stanno cambiando da una parte i costi energetici sono un'ulteriore sfida che aziende noi non siamo particolarmente energivoli però siamo abbastanza grandi quindi comunque sia a livello di costi è qualcosa che devi gestire quanto sta intaccando un po sul vostro conto economico già idea ma l'impatto ironia sarà di circa un paio di milioni di euro quindi qualcosa di non enorme ma che dobbiamo tirare immediatamente tutte le nostre leve per fare in modo che venga neutralizzato la buona notizia qual è che rispetto all'inizio dell'anno rispetto alla curva dello scorso anno gran parte delle delle materie prime hanno iniziato a tornare quindi ci sono due fattori che stanno seguendo dei trend opposti dalle materie prime dalla componentistica derivata delle materie prime riusciamo ad estrarre valore quindi a pagare meno dall'altra parte però dobbiamo fronteggiare una politica intelligente di gestione dei consumi ma anche di comunicazione con le nostre persone che è un issue quindi tutti noi dobbiamo collaborare a gestirle bene dobbiamo trovare un saldo che sia quello ottimale per l'azienda abbiamo tra il 2021 e 2022 scaricato a terra numerosi aumenti di prezzo era era l'unico modo per un'azienda come la nostra ma per tutte le aziende del nostro settore anche per molti altri di tener fronte ad un'inflazione che nel conto economico di elica se non avessimo fatto nulla valeva 50 milioni di euro iaronier lo scorso anno abbiamo fatto 30 milioni di risultato operativo quindi significava meno 20 facendo il conto dei dei bambini piccoli abbiamo fatto in modo invece di approcciare una prima metà del 2022 con margini in crescita quindi lo abbiamo fatto bene i nostri clienti grazie all'innovazione insieme ai prezzi abbiamo trasferito loro sono riusciti poi a scaricare a terra i maggiori costi che anche loro necessariamente si sono dovuti organizzare per per fronteggiare parlato innovazione brevemente cosa consiste l'innovazione per un'azienda come la vostra e poi per guardando un attimo al futuro avete chiuso da poco una un'operazione di emenei pensate di farne altre allora innovazione per lì che è tutto noi siamo un'azienda innovativa siamo grandi ma rispetto a molti dei nostri competitors o quantomeno alle aziende del settore non lo siamo così tanto quindi dobbiamo essere veloci e dobbiamo pensare in maniera diversa rispetto agli altri un esempio è il love il prodotto che abbiamo presentato ad euro cucina che è una novità assoluta è un unico prodotto con un piano aspirante ed un forno minimal bellissimo con delle funzionalità di altissimo livello che abbiamo presentato quest'anno per poi mettere in commercio il prossimo anno quindi noi dobbiamo arrivare prima per noi innovazione design estetica è necessariamente performance e per forza di cose qualità perché quella è giustamente una pretesa di tutti i nostri clienti e dei loro clienti che poi sono i consumatori consumatori finali l'operazione air force della quale possiedevamo già il 60 per cento si si inserisce in una ulteriore rafforzamento delle nostre politiche di brand prendendo il cento per cento di air force noi vogliamo dedicare quell'azienda a una fascia specifica di mercato di clienti managerializzarla farà in modo che insieme al marchio elica abbiamo altri marchi con i quali possiamo coprire meglio tutte le fasce di di value proposition nostre e per i nostri clienti dove vediamo la possibilità di estrarre e dare valore e state lavorando su qualcos'altro per noi è molto importante continuare e continuare a crescere lo stiamo facendo bene nonostante la solo la la situazione geopolitica con i nostri marchi ovviamente abbiamo bisogno e vediamo determinante nella nostra strategia in europa e in nord america trovare delle occasioni per crescere in maniera non organica in europa parliamo principalmente di allargare la nostra offerta prodotti abbiamo le nostre società commerciali in tutti i principali paesi abbiamo un brand molto forte siamo leader a livello di cappe siamo probabilmente il secondo produttore di piani aspiranti ma stiamo soffiando sul collo del primo abbiamo rapporti trentennali con i principali cucinieri quindi allargare la nostra offerta prodotti significa dare una nuova arma a un esercito che già schierato sul campo e questa è una delle strategie un'ultimissima domanda voi siete quotati in borsa nell'ultimo periodo abbiamo assistito a molti delisting quindi la borsa viene considerata non più come un elemento di crescita uno spazio dove progredire ma un qualcosa che rischia di soffocare voi come vivete il vostro stare in borsa in questo momento sicuramente con un po di frustrazione no perché al di là di una situazione geopolitica per la quale tutte moltissime aziende industriali stanno pagando la l'incertezza della situazione e ovviamente le scelte degli investitori stiamo registrando un quarter record dopo un altro ma il nostro titolo rimane lì però io penso anche che un'azienda deve fare il proprio dovere noi dobbiamo continuare nel nostro piano dobbiamo continuare a crescere dobbiamo essere sempre più profittevoli e dobbiamo che abbiamo iniziato inizieremo quest'anno pagare i dividendi ai nostri shareholders questo sarà un anno importante perché dopo penso sette anni è lì che ritorna al dividendo con una cedola importante che si inserisce in un piano nel quale vediamo il controllo della situazione quindi vogliamo remunerare come giusto che sia i nostri azionisti ora e nel tempo grazie Emilia Giulio Cocci grazie a tutti grazie